E' un esordio felice e convincente quello di Capodorlando che batte Cantù al termine di una gara molto combattuta e decisa grazie all'esperienza dei senatori Vieschi e Basile, ma anche l'esuberanza dei giovani La Quintana e Perle, quest'ultimo decisivo nel finale. Gli ospiti, autori di un ottimo primo quarto, sono poi calati alla distanza, anche per merito della difesa paladina con Basile fondamentale sullo spauracchio Eslip che chiude con soli tre punti. Cantù parte bene, impone i propri ritmi nel primo parziale quando raggiunge il massimo vantaggio al settimo, 19 a 10, Capodorlando però non molla e ricuce sino al meno 4. La Bedaland si riscatta nel secondo parziale con un ottimo Yassaitis che mette a segno ben 10 punti e firma la rimonta con relativo sorpasso, 32 a 30 al dodicesimo. Partita che prosegue poi ad elastico sino alla sirena, 38 a 36. Terzo parziale spettacolare con l'Orlandina che risponde colpo su colpo giocando di squadra, mentre Cantù forza troppo il tiro da tre. Si segna poco nell'ultimo quarto ma non mancano le emozioni con i paladini che riescono a mantenere un buon vantaggio e a gestire perfettamente il finale. Una vittoria voluta, sudata, meritata a mio avviso su tutti e due i lati del campo. La partita è andata, abbiamo lasciato segnare Cantù solo nel primo quarto, peraltro più per un approccio secondo me un po' troppo scolastico in difesa e con qualche attacco poco bilanciato. Alla fine noi, anche se facciamo 24 secondi in una partita contro una squadra come questa a cui piace correre il campo in contropiede, ci preoccupa relativamente. Nel primo quarto invece abbiamo aperto un po' il contropiede avversario, peraltro loro hanno fatto tre su tre da tre, hanno segnato da tre contestitori, insomma hanno trovato anche qualche canestro forse di troppo. Grazie a tutti.